Musica Violenza privata e abuso d'ufficio depositata anche a Pesaro le denunce contro Draghi e il ministro Speranza per riaffermare il diritto al lavoro, alla salute e a una vita dignitosa Tamponi rapidi anche in parafarmacia, la giunta regionale si attivi la capogruppo dei 5 Stelle Marta Ruggeri chiede una modifica della legge per accelerare la diagnosi e soddisfare le tante richieste L'assessore Baldelli a Roma per la Fano Grosseto, Anas, dovrà rielaborare il progetto per tornare al percorso iniziale con le quattro corsie un altro passo in avanti verso il completamento dell'incompiuta delle incompiute Piste ciclabili a marciapiedi, a Fano cantieri aperti in diverse vie della città e il punto con l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli Il sogno continua Pesaro e Ascoli tra le 10 finaliste in corsa per l'edizione 2024 della Capitale Italiana della Cultura a marzo il verdetto Dopo il telegiornale torna primo cittadino ospite il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia Dopo Ancuna è stata la volta di Pesaro sia sabato che questa mattina decine di persone si sono messe in fila per sporgere querela contro il governo Draghi per quelle che hanno definito imposizioni sanitari immotivate e inutili Davanti al tribunale c'eravamo anche noi Obbligo vaccinale dai 50 anni in su Operatori sanitari costretti anche alla terza dose per non perdere lo stipendio e nuove imposizioni sanitarie immotivate e inutili nel contrasto alla diffusione del Covid-19 Sono queste alcune delle motivazioni che stanno spingendo cittadini di tutta Italia a partecipare al Procura Day depositando una querela a carico dei principali esponenti di governo dal Premier Draghi al Ministro della Salute Roberto Speranza Le accuse sono quelle di violenza privata e abuso d'ufficio reati puniti dal codice penale Dopo Ancuna l'iniziativa nelle Marche è proseguita a Pesaro Sabato scorso chi si era presentato di fronte al tribunale è stato costretto a spostarsi in questura non avendo prenotato un appuntamento Più di 100 le querele depositate anche oggi un gruppo di cittadini stanchi delle discriminazioni, dell'esclusione di una parte della società dalla vita e dalle attività quotidiane si è presentata munita di documento di identità e copia della denuncia compilata con i propri dati Davide, anche lei ha sporto denuncia è stato il primo questa mattina? Sì, il primo della mattinata Sì, esattamente Perché questa decisione? Perché mi accodo tutti gli altri italiani che hanno provveduto a depositare queste querele contro il governo perché viviamo in una condizione scandalosa Io mi auguro che ci sia un magistrato un giudice che abbia il coraggio di mettersi contro il governo perché stanno mettendo in atto delle disposizioni vergognose Io ripeto quello che ho già detto in altre situazioni il Green Pass non ha niente di sanitario non ha niente a che vedere con la sanità è un dispositivo di vessazione del dissenso politico è un dispositivo di controllo sociale quindi va assolutamente abolito In vista anche ulteriori restrizioni? Sì, quelle dei cinquantenni assolutamente vergognose quelli degli over 50 Io faccio appello a tutte le persone che abbiano più di 50 anni di impugnare dal punto di vista legale tutte queste vessazioni perché sono assolutamente anticostituzionali di fronte ai giudici di pace ci sono degli avvocati validissimi anche qui nei dintorni di Fano e di Pesaro che si mettono a disposizione gratuitamente contattateli e impugnate queste multe che sono vergognose Uniti possiamo fermare questa deriva preoccupante aggiunto in una nota il gruppo Cittadini Liberi di Pesaro che si batte da tempo per riaffermare il diritto alla salute quanto e cosa ancora dovremo sopportare? si chiedono prima di vedere ripristinati i diritti costituzionalmente garantiti ad un lavoro e a una vita dignitosa nel rispetto della libertà umana e il diritto alla libera scelta anche Pesaro si mobilita in un'azione giudiziaria collettiva hanno spiegato per spingere la procura della Repubblica ad accendere un faro sulle gravissime violazioni che stiamo subendo ormai da diversi mesi da dove viene se posso chiedere? 45 chilometri, le colline di Trofano come mai ha deciso di sporgere denuncia proprio al tribunale di Pesaro? beh perché pensiamo che sia il modo più diretto e forse più adatto poteva magari recarsi giù avevamo parlato con altre persone quindi avevamo preso la decisione di venire insieme non siamo in molti però abbiamo deciso di venire qua quindi contrari alle norme e alle scelte del governo DRA assolutamente perché sappiamo bene che sono fuori dei limiti consentiti sia dalla Costituzione e sia dal buon vivere normale, civile ecco personalmente vi hanno provocato anche dei disagi o dei danni economici? questo sì come a tutti del resto muoversi in queste difficoltà dà anche molta tristezza e non solo quindi bisogna assolutamente rimanere tranquilli per quello che si può e cercare di opporsi nei modi consentiti dalla legge per avere una situazione migliore che non sia tanto lontana anche voi in fila questa mattina? sì e molto volentieri è diciamo uno dei pochi momenti in cui mi piace stare in fila però non vi ricevono? avete prenotato? no abbiamo preso appuntamento per uno dei prossimi giorni di questa settimana come mai sporgerete denuncia? allora per me è un atto dovuto non tanto per me ma per i miei figli figli, nipoti e tutti i bambini che anche non siano miei un atto dovuto perché la legge dà la possibilità di scegliere se vaccinarsi oppure no poi invece nell'atto pratico costringe le persone a farlo perché altrimenti si è fuori completamente dalla vita sociale, dalla vita lavorativa e anche dallo studio per i ragazzi vedo che ha i documenti in mano che cosa ne pensa di queste imposizioni del governo e in generale di come si sta gestendo la pandemia? credo male visto gli ultimi numeri che escono sia sui canali social che anche sulla televisione perché anche alcuni canali ufficiali si stanno cominciando a sbilanciare con dei numeri che la dicono lunga sull'efficacia del Green Pass e delle restrizioni del governo quindi non credo che questa sia la strada giusta visto anche quello che sta succedendo un po' negli altri paesi europei che stanno aprendo invece di chiudere una cosa basta guardare quando si va per strada dentro un bar, un ristorante si vede che non è più come due anni fa c'è di carenza di persone dentro i locali credo che siano 34 mila le partite IVE del terziario chiuse l'anno scorso quindi qui non ci sono né ristori non c'è niente c'è solo una serranda giù un affitto che non sarà più pagato una famiglia senza lavoro o più famiglie senza lavoro quindi credo che il governo debba ravvedersi rapidamente se non vuole disintegrare l'economia del paese che già stava andando abbastanza a rotoli intanto depositiamo le querele perché riteniamo che alcuni apparati dello Stato debbano svegliarsi e capire che c'è qualcosa che non va ci sono violazioni di norme costituzionali ed europee quindi qualcuno solerte nel vedere della cuccia del cane abusiva deve essere anche bravo a vedere se c'è una cosa ben più grave speriamo che qualcuno lo faccia e la regione ha fatto sapere che nelle Marche sono circa 53.800 gli over 50 non ancora vaccinati su un totale di circa 722.000 è macerata la provincia con la percentuale più alta di persone con più di 50 anni che non hanno ricevuto neanche la prima dose del siero anti-covid cioè in questo caso oltre 19.000 marchigiani intanto l'assessore alla sanità Filippo Salta Martini ha annunciato la riorganizzazione del sistema ospedaliero dei posti letto dedicati al covid per affrontare la pandemia che vede un appiattimento della curva epidemica e per garantire allo stesso tempo le altre attività sanitarie ad esempio quelle chirurgiche in ambito oncologico in base al nuovo provvedimento e alle indicazioni del ministero il tetto massimo dei posti letto nelle marche dedicate al covid viene fissato a 354 in area medica a 79 in terapia intensiva a 258 in area post critica e 42 in residenza dorica l'analisi previsionale sull'andamento della nostra regione rileva una stima sul raggiungimento del picco epidemico in quest'ultima settimana di gennaio la capogruppo dei 5 stelle in consiglio regionale Marta Ruggeri oggi è intervenuta sui tamponi rapidi chiedendo alla giunta di attivarsi affinché i test vengano eseguiti anche nelle parafarmacie che sono già collegati con il sistema sanitario nazionale per garantire il tracciamento Ruggeri ha presentato un'interrogazione per chiedere un'azione congiunta con altre regioni per modificare la legge che riguarda i tamponi che cosa chiede nello specifico? chiediamo nello specifico che anche le parafarmacie possano fare i tamponi rapidi e questa è una proposta che nasce da parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno presentato questo emendamento al mire le proroghe in commissione sia alla Camera che al Senato emendamento purtroppo che è stato rispinto quindi adesso stiamo facendo un'azione da parte di tutte le regioni italiane in alcune sono state proposte delle emozioni che sono state anche approvate per esempio in Lombardia e per la situazione delle Marche che è una situazione più particolare ho pensato che potesse bastare un'interrogazione per capire come stanno effettivamente le cose dove sta l'inghippo? l'inghippo sta nel fatto che nell'aprile dell'anno scorso la giunta regionale ha fatto una delibera per appunto permettere che anche le parafarmacie oltre alle farmacie potessero fare questi test per la prevenzione nel covid e ripeto e ricordo che la legge adesso prevede che si esca dalle quarantene anche tramite un test che viene effettuato in farmacia quindi a maggior ragione adesso sarebbe utile questa cosa però insomma la regione si era mossa con anticipo proponendo questo accordo con le parafarmacie ma un mese dopo ha ritirato la delibera e adesso siamo arrivati dopo i corsi Altar fino alla Corte Costituzionale e siccome la questione non sarà di breve risoluzione chiediamo alla giunta e al presidente Acquaroli che intenzione hanno come intendono procedere per rendere possibile insomma che ci sia questo aiuto per la prevenzione al covid con la partecipazione anche delle parafarmacie oltre che delle farmacie come avviene ad oggi a nome dell'amministrazione provinciale il presidente Giuseppe Paolini ha espresso cordoglio per la scomparsa di Alvaro Buscarini imprenditore deceduto all'età di 68 anni dopo una breve malattia fu uno dei soci fondatori della Central Tube e poi della System Group con le sue aziende le sue intuizioni le grandi competenze e la forte passione per il suo lavoro ha dichiarato Paolini ha contribuito allo sviluppo di un intero territorio il Montefeltro e non solo rappresentando un esempio per le giovani generazioni ho sempre ammirato aggiunto il presidente quegli imprenditori che hanno ali per volare e al tempo stesso radici ben piantate nella loro terra d'origine Boscarini che da lunano ha dato avvio al suo percorso imprenditoriale fondando successivamente un gruppo di grande successo oggi composto da 16 aziende in Italia e in Europa ha sempre amato questo territorio ha concluso instaurando un rapporto speciale con la sua gente e i suoi dipendenti due persone indagate e più di 2.900 controllate in stazione a bordo di 72 treni e il bilancio dell'attività svolta nell'ultima settimana dal compartimento di polizia ferroviaria per le Marche l'Umbria e l'Abruzzo mercoledì scorso un 39enne italiano in preda ad ansia ed agitazione si è rivolto agli agenti di Pesaro chiedendo aiuto al fine di recuperare il suo strumento musicale un violoncello e archi d'ingente valore da lui dimenticato a bordo di un treno regionale diretto a nord dal quale era appena sceso i poliziotti hanno subito chiamato il capotreno che si è prodigato per la ricerca dello strumento ritrovandolo nel posto indicato la bella notizia ha subito rasserenato l'uomo che ha poi recuperato il violoncello alla stazione Polfer di Rimini dove è stato tenuto in custodia fino al suo arrivo sempre a Pesaro ma nella mattinata di sabato è stato identificato un minore cittadino albanese privo di documenti a suo carico non risultava nessuna denuncia di scomparsa ma da ulteriori accertamenti si è appurato che il giovane si era allontanato arbitrariamente da una comunità della provincia alla quale è stato riaffidato il completamento della Fano Grosseto a quattro corsie è questa la richiesta avanzata dalla regione in particolare dall'assessore Francesco Baldelli al consiglio superiore dei lavori pubblici ora il progetto verrà rielaborato da ANAS abbiamo creato una squadra che lavorerà unita per il completamento della Fano Grosseto così l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli che nei giorni scorsi accompagnato dal primo cittadino di Urbino Maurizio Gambini e rappresentanza dei sindaci dell'entroterra si è recato a Roma per seguire la seduta del consiglio superiore dei lavori pubblici all'ordine del giorno c'era il progetto per il completamento della Fano Grosseto sono state presentate ad ANAS ha spiegato Baldelli tutte le osservazioni e le richieste di integrazione affinché l'attuale percorso previsto a due corsie non raddoppiabili tenga invece in considerazione tutte le valutazioni coordinate dalla regione Marche così come espresse dal territorio il prossimo passaggio fondamentale sarà la conferenza dei servizi in cui ANAS è stata chiamata dalla stessa commissione a rielaborare il progetto che da sempre chiediamo torni alla previsione originaria delle quattro corsie c'è una posizione cristallizzata su un completamento della Fano Grosseto a due corsie addirittura utilizzando anche il tracciato esistente il che significa rotatori semafori incroci a raso questo non è un itinerario europeo finalmente con la convocazione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici come regione Marche facendo un cambio di passo evidente da quello che era accaduto nel recente passato abbiamo presentato formalmente una nuova visione di infrastrutture regionali un itinerario europeo come la E78 non può essere a due corsie addirittura non raddoppiabili queste criticità ha aggiunto Baldelli hanno portato il Consiglio Superiore a deliberare non l'interruzione della procedura per ricominciare da capo e questo è un ottimo risultato ha commentato l'assessore bensì l'integrazione di quella procedura con l'accoglimento delle osservazioni non solo dei consiglieri dello stesso organismo ma anche della regione Marche insieme alla provincia pesarese e ai comuni interessati con i quali abbiamo parlato ad una sola voce il risultato finale è stata la richiesta a Banas di procedere con il completamento della Fano Grosseto ma di rielaborare il progetto presentato secondo un'ipotesi che non può soddisfare questo territorio e le esigenze della regione Marche ma con un progetto che tenga in considerazione la possibilità di realizzare una strada a quattro corsie come? progettandola a quattro corsie poi a secondo delle necessità economiche anche da realizzare a stracci ovviamente con il raddoppio della guinza ora concluso Baldelli dovremmo vigilare che Anas acquisisca tutte le osservazioni presentate affinché il voto della regione possa essere favorevole e si possa finalmente vedere la messa in opera della incompiuta delle incompiute del centro Italia strategica non solo per la provincia di Pesero Urbino ma per l'intera regione la Fano Grosseto porta questa regione invece verso la Toscana e quindi unisce gli interessi della costa adriatica nord con quelli della Toscana ma unisce anche gli interessi del nostro porto anconetano che è uno dei principali porti per la sua conformazione del mare adriatico verso i porti della Toscana o anche della Liguria pensiamo a Piombino pensiamo a Livorno o pensiamo alla Spezia La regione Marche desina ulteriori contributi pari a 2,5 milioni di euro a favore dei comuni marchigiani per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio non tanto per la riparazione del danno dovuto al dissesto idrogeologico quanto alla prevenzione del rischio lo comunica l'assessore alla tutela del territorio Stefano Guzzi che questa mattina ha portato in giunta una delibera per lo scorrimento della graduatoria dei comuni beneficiari per il 2022 ha spiegato Guzzi siamo andati incontro alle esigenze di 12 comuni che in totale per i loro progetti potranno usufruire di 2 milioni e 350 mila euro richieste pervenute però erano molto di più e adesso potranno essere soddisfatte così altri 13 comuni potranno sanare le loro criticità fra questi rientrano Serra Santa Bondio Sirolo Numana Potenza Picena Civita Nova Marche Urbino e Pesaro invece il vicepresidente Mirko Carloni ha annunciato ulteriori risorse per favorire la competitività delle micro e piccole imprese artigiane con un pacchetto di misure da 4,5 milioni per investimenti in digitalizzazione a modernamento tecnologico e commercializzazione dei prodotti significative anche le risorse a favore dell'artigianato artistico tipico e tradizionale le domande potranno essere inviate fino al 15 marzo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito della regione continuano i lavori per la messa in sicurezza di ciclabile marciapiedi a Fano questa volta il cantiere si è spostato tra via 4 novembre e via canale Albani intanto gli operai stanno lavorando anche sulla nuova isola salvagente lungo via Legranci tutti particolari nel servizio di Filippo Pucci tre punti critici della città messi in sicurezza l'assessorato ai lavori pubblici del comune di Fano elenca gli interventi di via 4 novembre via Negusanti e via Legramci dove tutt'oggi gli operai della ditta Casavecchia sono al lavoro per alcune migliorie richieste dai residenti ma anche da ciclisti e pedoni l'ultimo cantiere allestito è quello nell'incrocio a lato del semaforo del Ponte Rosso nella zona del Palazzo di Vetro tra via 4 novembre e via Canale Albani è un'intersezione molto pericolosa perché appunto tutti gli studenti che attraversano questa strada trovavano questo marciapiede molto piccolo meno di un metro quindi che oggi andiamo ad allargare a quasi due metri quindi metteremo in sicurezza questo piccolo tratto che si collegherà alla ciclabile che state già vedendo via 4 novembre via Negusanti via 4 novembre è ultimata stanno finendo gli ultimi lavoro sui cordoli dovranno arrivare dei cordoli in gomma che aggiungeremo diciamo in qualche zona così che potremmo modularli e spostarli come insomma i tecnici poi valuteranno ecco Sessore c'è un progetto che state pianificando proprio per questa zona di che cosa si tratta? avevo messo in sicurezza questa intersezione alle mie spalle pensiamo in futuro anche di riqualificare e riorganizzare gli spazi di via dell'Abbazia e via Canale Albani in modo da creare percorsi pedonali ciclabili e ha ovviamente parcheggi e ha anche percorsi carrabili altro punto è via Negusanti qui i lavori quasi terminati vedranno nelle prossime settimane l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione e nuove aree verdi con la piantumazione di siepi e 4 ciliegi per dare quella continuità con via Garibaldi ultimo ma non per importanza via Legramci qui la squadra è già al lavoro per la realizzazione di un'isola salvagente stiamo facendo dei lavori in via Legramci anche quell'attraversamento è stato oggetto di un terribile incidente quindi oggi stiamo realizzando una isola salvagente in modo da poter proteggere le persone che attraversano via Legramci da via Negusanti verso via Garibaldi il sogno continua a Pesore nella top 10 finale per la capitale italiana della cultura 2024 lo annunciano il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco Daniele Vimini che hanno commentato la lista resa nota oggi dal Ministero della Cultura ci giocheremo la partita fino in fondo hanno assicurato eravamo speranzosi ma nulla era scontato da Ricci e Vimini anche complimenti per il risultato dell'altra marchigiana in corsa siamo contenti per la presenza di Ascoli a dimostrazione della validità di entrambi i progetti speriamo che la strategia di strada comune tracciata anche con l'impegno della regione venga sostenuta per far sì che il 2024 sia una grande festa per tutte le marche la città vincitrice sarà proclamata a marzo 2022 e con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale ma tra poco torniamo in diretta perché ci sarà una nuova puntata di primo cittadino ospite sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri segnate il numero di telefono di riferimento anzi i numeri perché potete intervenire in diretta parlando direttamente con il sindaco oppure potete inviarci un messaggio tramite l'applicazione di whatsapp a dopo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti